Le hai messa alla buona mira? No, anche lui, è un costo di 60 euro di massigure. Ancora vuol dire, quando riesco a mangiare il polpaceno, ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vado. Ci siamo. Ci siamo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Grazie a tutti. Grazie a tutti.